Siamo bannati, bannati, e quando è che siamo bannati? È stato sequestrato dal torino Caluso, hanno ammazzato il procuratore Scaglione, e spesso non c'erano cosa da niente, il procuratore è lasciato, hanno detto che mi ha messo i amici per lasciare, e ora io voglio fare l'elezione. E perché non ce lo dici a tutti quello che hai scoperto? Ho scoperto che tutti pensano che sono stati loro, i Gorderenzi. Io rispetto, Beppe Di Fissi, so che quando vi parlo parlo è molto affetto, ma vedete, si possono fare tante scoperte. Il suo fotografo, per esempio, ha scoperto la mezza, è un fatto, è salvo io, ma un conto è la mia, e un conto sono le chiacchiere. Se uno scopre solo le chiacchiere per te con Enzi, ma mi dite che minchia di scopertare? Aspettiamo che io me ne vado in giro. Va bene, e mi dico che Beppe Di Fissi è incazzato con me perché mi sono toccato città a parte, che invece se tu te la prendi a me. Dico, posso mai venire qui a dirvi che Di Fissi fici che tu che fici, perché mi ha fatto venire a me e stavo a prendere lui da parte. E se non te lo posso dire, perché non è che l'ha scoperto. Sono solo chiacchiere, chiacchiere e pettegolezze che ci possono portare a fare una guerra in un'altra. D'amici. Invece gli amici devono essere tranquilli, e devono avere fiducia. Beh, tu sei incazzato con me per gli apparti di cavità. Ma a me che minchia mi interessa negli apparti di cavità? Eppure se per la bontà della pensa così. Avanti, Beppe, lo sanno tu. Io penso, per visore di un problema, si donano tutti gli affari personali. Ah, ma gli affari personali, ma non vuoi vedere che alla sotto accusa ci sono io. Calma, calma. Faccio una nuova proposta. Nella nuova commissione, devono insieme anche i coordonati. E me va bene. Ma prima fatemi abbracciare a Peppe. Beh, ogni istante esageriamo tutti quanti con le parole. E le parole alla fine che sono, fiato. E fiato vuol dire che siamo tutti vini. E questo è un bene. Va bene. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.